Quanta gente ci sarà Cerbero? No, troppo rischioso, vabbè, devo farmi il loot prima E la donna Tereremo qua, KSP uguale DMR Ah, facciamoci giusto un mini Non si sa mai Quanto cazzo lag, ragazzi, è impossibile prendere un fight adesso Uno che sta suando Zeus Perché tenta che il win? Siamo nella top 5 con 0 punti Però voglio prendere Cerbero prima di arrivare in enda Piuttosto muoio Alla mia qualcosa di riaccento, please Mamma mia Quanto lag, ma che? Non posso fightare così Ragazzi, ogni cazzo ha pistola e bende Cioè, quattro casse così ho aperto Ce la facciamo? Ah, Zeus, ma capito Mamma mia Quel DMR lì Devo fare top 5 con 0 kill 20 punti devo fare Bene, sì, le splash bellissime Però se mi dai qualcosa Guarda, io devo essere partato dall'altro Non ho minimamente voglia Prenderò la macchina di mia mamma Ti prego, dammi il pompa recente Ti prego, ti chiedo solo questo da questa cassa Ah, ma hanno fatto Cerbero Io vorrei solo vedere che pompa ha lasciato per Cerbero Lui non aveva la pompa Lui non aveva la pompa La bro è fai dato qua E quello lì mi sa Qua dentro La bro è l'immobile che si sta trastrullando Io preferisco questo, ragazzi Lo spammone Box per di sempre Mi ha amato spammone Prego, dammi uno spruzzone Ti prego Ma quante pistole ho trovato, ragazzi Non l'ho mai trovata così tanto Madonna, se mi fanno paura questi posti così Ne ho prese 27 di cecchina TNHS È il momento di rimandarle Non mi sento bene Non mi sento bene, ragazzi Ma poi i cecchini sono rarissimi Ma ce l'hanno tutti Questa Questa, ragazzi Questo è troppo anche per me Avevo lasciato un big Guarda qualche parte No, ragazzi Ma pure Non dimmi che sei lì dentro Nel primo momento Mi metto qua così No, quel bush Sì, giocano Giocano la family La famiglia La famiglia Ah, i muri danno 10 Io uso 10 per rimetterlo Ah, 12 Va bene Questo non l'avrei missato Se fossi nel mio prime Mi ha migliorato drasticamente il look Potrei usare il cerbero per ruotare Perché tanto poi lo riprendo Con molto Ok, con calma Con calma, ragazzi Merda Zio Continua a sparargli Rincoglionito Probabile sia uno anche con i medaglioni Dai, fermo Ti spacco la faccia Eh No Double breast Perché devi fare questo anche? Tra tutti quelli che hanno ruotato Questo ha sparato a me Dai Ok, ragazzi La situa è molto critica La situa è criticissima La situa è È Incredibilmente Mi vuole un 300 punti di exiderone qua Oppure joinare questo coglione Serve un bel refrescino Ho tutto di cure Ho con un'ochietta questo Che lo joino No, era la God play Come Che cazzo di riflessi ha avuto? Che riflessi ha avuto questo coglione? Allora ragazzi Io non me ne frega più un cazzo Che medaglione è? Fuori più veloce Si gode Sì che mi è morto Sopra Che merda Questa zona ragazzi Mamma mia Che sbocco Quello è lobby spray Il termico è proprio una merda Wow Mi avessi fatto HS Sniper ragazzi Madonna Il tilt Che partiva Ce la faccio? Ah sono crashato Beh dai Oggi è una bella Oggi è una bellissima giornata Dai No ma vanno Sì sì dai Vabbè dai Stanno tutto Tutto a posto Muoglio di zona Vai dai Sì Sembra di zona ragazzi Dai Wow Dai oggi è andata bene La crash Si si vede che What the fuck Perché sono in zona Ragazzi Ragazzi Guardate ma cosa sta succedendo What the Cosa mi ha preso Poi Poi qua c'è un cerbero Mi ha ucciso quello con cerbero Poi Poi io non ho capito ovviamente qui ragazzi 23 bro meno male che ho ucciso quello con tre medikit ragazzi no 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 ma non mi buildare tranquillo tanto io build over game e se me corre che link Grazie a tutti. Non ci può buildare, non ci può buildare, non ci può buildare. Ah, bella, madonna zio. Ma come hai fatto a capire dove stessi andando? Oh, il tuo gioco è una merda, ragazzi. Il tuo brodo, il tuo cazzo brodo, il tuo cazzo brodo. Grazie. Grazie.